Marco, come hai vissuto questa tua prima esperienza con i partner? Bah, sai, il mio pubblico femminile è un mio padre di cazzo Pare che Insign ti avrei fregato Ma quel coglione Quei deficienti delle scatole Ah, sono un giornalista, per favore Io è bello che ieri sera, mentre me ne vao, mi sono andato a poggiare Ho fatto, oh, e Giulio, non c'è il muro, eh? Dico, ho visto che, pensavo che ci fosse l'acqua Allora, adesso qua, il numero è levarsi tutta la barata Bravo Le mie, queste, mettete nel museo dei cieli dopo la morte Guarda, queste le vendete su ebay dopo la morte Giulia, uno per uno, non attesa dopo Non ve le litigate Per essere qui